Si è svolta a Torchia l'Assemblea Interregionale dei Testimoni di Geova e questo è uno spazio autogestito. Vediamo. Erano davvero in tanti al maxi raduno di tre giorni dei Testimoni di Geova a Forchia. Ben oltre 5.000 fedeli e simpatizzanti di tutto il Molise e di diversi comuni della Campania erano presenti nella grossa struttura vicino Benevento per assistere al nuovo programma di istruzione La parola di Dio è verità, il cui tema è profondamente basato sullo studio delle Sacre Scritture. Il tema dell'Assemblea di quest'anno è stato significativo perché ha sottolineato un valore che i Testimoni di Geova ritengono centrale per le famiglie. Infatti i Testimoni considerano lo studio personale e familiare della Bibbia la fonte più fidata per avere guida e consigli in questi tempi difficili in cui siamo costretti a vivere. Tutti i presenti hanno trovato utile e gradevole il programma, ricco di contenuti vari sotto forma di discorsi, esperienze, interviste e scene pratiche. Alcuni momenti di maggiore interesse e affluenza sono stati registrati durante il discorso pubblico di domenica mattina Che cos'è la verità? Come tutti i raduni, anche quest'Assemblea non è stato solo motivo di istruzione. I fedeli usufruiscono di queste occasioni per ritrovarsi con piacere, nonostante le distanze e le difficoltà. Nuove assemblee sono già in programma per l'autunno prossimo. I Testimoni di Geova sono già al lavoro. I Testimoni di Geova sono già in programma per l'autunno prossimo.